ciao a tutti no non sono in libra sono in un parcheggio sono qui per dirvi che alcune settimane fa mi ha contattato alice di carpool ride chiedendomi se volessi rendere smart la mia auto con il loro prodotto e a dire la verità all'inizio non capivo come potesse diventare smart la mia auto ma alla fine l'ho capito eccola qua è una radio con schermo touch da 7 pollici dove possiamo collegare i nostri telefonini android oppure iphone così da sfruttarne tutte le potenzialità prima di farvi vedere come funziona vediamo un attimo cosa c'è all'interno della confezione carpool ride w 708 il modello al suo interno eccolo qua è subito lo schermo da 7 pollici con tutte le sue prese ingresso per l'alimentazione presa usb ingresso audio uscita la telecamera cheda di memoria è uscita microfono ha anche un suo autoparlante e qua i comandi che poi vediamo naturalmente non possono mancare delle istruzioni inglese e poi il suo interno abbiamo i soliti cavi e cavetti cavo di alimentazione dello schermo 12 volta presa accendisigari i vari supporto supporto per il vetro a ventosa oppure supporto la possibilità di incollare direttamente sull'auto e cavo aux questa sarà la mia postazione definitiva poi lo incollerò qua con l'adesivo per adesso l'ho poggiata solo per fare il video perché non mi piace avere quella nel vetro devo dire che il touch non è male abbiamo un po di funzioni si può mettere in italiano anche se la traduzione non è il massimo abbiamo wifi per collegarlo è possibile fare anche collegamento cablato quindi col cavo c'è la possibilità anche di mettere una retrocamera così da usare lo schermo per la retrocamera qua abbiamo poi il menu c'è il carplay ecco adesso devo collegare il telefonino poi lo collego qui abbiamo usb che si può inserire usb con la musica stessa roba con la scheda di memoria qui abbiamo l'equalizzatore direi ottimo ha un suo autoparlante ma è possibile anche usare quello della radio meglio usare il cavo aux se la macchina ha una presa aux e quindi adesso colleghiamo il telefono andiamo nelle impostazioni e attiviamo il bluetooth connetti adesso ci stiamo connettendo al car ride mi dice attiva ok e voilà già abbiamo il carplay di apple così possiamo utilizzare google maps questo qua altrimenti musica abbiamo possiamo anche fare le chiamate andiamo nel menu ed eccolo qua whatsapp calendario insomma praticamente abbiamo tutto il nostro telefonino sullo schermo è per quello che diventa nostra auto o smart ed è possibile anche utilizzare nel mio caso siri per fare una chiamata e siri chiama melissa mi dice mi chiede una connessione internet sì perché qua non ho dove sono non ho internet comunque come si vede è molto molto reattivo una cosa interessante che possiamo duplicare lo schermo del telefonino direttamente sulla radio così da poter andare a vedere un film con netflix oppure dei video della nostra galleria foto oppure andare su youtube e vedere il nostro youtuber preferito naturalmente inclinando il telefonino in orizzontale anche lo schermo del carpo rider sarà in orizzontale per vedere in tutta la sua lunghezza naturalmente in descrizione il sito internet così potete andare a vedere tutte le specifiche tecniche se dove eserciti un codice sconto ve lo lascio qua ve lo metto in descrizione allora ho fatto una settimanina di prova devo dire touch buono esteticamente anche quello non è male grandevole d'aspetto unica cosa si sono i fili dell'alimentazione e della presa aux se si collega in giro ma questo è inevitabile ho notato a volte delle disconnessioni a volte fa fatica a connettersi non so se sono io che non sono capace oppure car purai con un telefonino android non sono riuscito a connettermi ma penso sia dovuto al sistema operativo infatti dovrebbe connettersi mi insomma dal android 11 in su sinceramente è un prodotto che non mi è mi ha entusiasmato perché ero curioso di provarlo ma una volta provato mi ha dato delle delle gran soddisfazioni riproduce praticamente quello che fa il telefonino quindi con il car plane nel mio caso oppure nello schermo del telefonino avendolo integrato sulla macchina di melissa sulla mazda se mi trovo bene quando viaggiamo uso google maps e niente di più quindi non sono un grande fruitore di musica di video in macchina quindi per me non ha tantissimo senso per l'utilizzo che faccio io ma se uno piace potrebbe essere una cosa interessante non so però se comprando un classico tablet e mettendolo in macchina potrebbe dare gli stessi risultati non ho possibilità ovunque non ho mai confrontato con altri modelli e di altre marche e quindi non saprei dire sì è meglio degli altri prendete vi dico che è carino si può farne anche a meno più bello forse che pratico penso che questa sia l'ultima collaborazione che farò con carpool ride ci vediamo nel prossimo video